Ragazzi eccoci qui e benvenuti in uno dei nuovi video di Vieni a vivere all'estero Sì sta piovendo abbastanza però voglio fare questo video per ricordarvi che sono appena tornato da fare la mia corsa Sì effettivamente adesso sto aumentando E non dovete minimamente farvi fermare dal brutto tempo quando dovete fare una cosa Quindi se avete in mente di fare una cosa la fate Poi il tempo si arrangia perché altrimenti sarete sempre bloccati a fare quello che detta il tempo atmosferico Quindi io sono appena tornato da correre, sono contento di aver corso E fa niente che mi sono un po' inzuppato, fa niente Quindi ragazzi se c'è da fare qualcosa, pioggia o sole si va possibilmente lo stesso se si deve andare all'aperto Naturalmente se dovete stare fuori tutto il giorno e il tempo è una schifezza Se dovete fare il picnic non va bene Però per piccole cose all'aperto fatelo comunque non vi preoccupate Non è morto nessuno qua di pioggia E sinceramente di questa stagione non è neanche tanto fredda Quindi ragazzi mi raccomando non fatevi fermare dalla pioggia quando dovete fare le vostre cose Ok? Ciao ragazzi